A queste condizioni, non solo a Castiglione Fiorentino, ma in Italia non ci possiamo permettere di continuare ad accogliere migranti. Questo Paese è diventato il campione mondiale dell'accoglienza, ma permettetemi di dire che è ai fanalini di coda per i processi seri, veri, inclusivi di integrazione. Così il sindaco Mario Agnelli nel corso della conferenza stampa indetta per fare il punto della situazione sulla questione migranti a Castiglione Fiorentino, anche in seguito all'apertura di un nuovo cassa a Castroncello nel territorio castiglionese, gestito dalla cooperativa Agora che ospiterà 8 migranti provenienti da Gambia, Ghana e Nigeria. Non è compito mio scegliere, valutare, selezionare i soggetti che devono accogliere i migranti. Certo è che l'ultima, la cooperativa Agora d'Italia, mi è nota per qualche difficoltà dal punto di vista della liquidità finanziaria per il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti. Credevo, penso, spero, che chi serve lo Stato o è fornitore dello Stato possa essere in grado di documentare tutti i suoi requisiti e tutte le sue caratteristiche. Si tratta della terza struttura nel territorio di Castiglione Fiorentino nel quale ad oggi sono presenti 54 migranti. Sono complessivamente fortunato ad avere la Croce Rossa italiana con una struttura e la fraternità dei laici con un'altra. È chiaro che proporzionatamente al numero degli ospiti mi aspetto che queste cooperative e questi soggetti eseguano in maniera pedisse qua alla lettera ciò che devono eseguire. Non si tratta di fermarsi dopo che c'è un tetto e un piatto caldo per queste persone, ma si tratta di cercare di seguirli e di avvicinarli a quella che è la nostra comunità, il nostro vivere e il nostro mondo. Questo comune è stato anche il primo a coinvolgere i migranti presenti nei progetti di lavori socialmente utili. Progetti che sono stati ampiamente disattesi, nonostante che sia le mie indicazioni ma anche quelle del prefetto non hanno prodotto risultati. Non si è fatta attendere la replica della cooperativa Gorache in una nota precisa che l'apertura della struttura è avvenuta nell'ambito di un bando della prefettura di Arezzo, per partecipare al quale, dicono, abbiamo messo a disposizione locali che abbiamo in affitto e che al momento erano inutilizzati. Sarà adesso nostro compito proseguono a realizzare un necessario processo di integrazione e quindi non solo nostra intenzione ma anche nostro interesse aprire un dialogo con i referenti della comunità locale, prima fra tutte l'amministrazione comunale.